salve ragazzi vediamo subito come preparare insieme questi muffin all'arancia come prima cosa ci serve una ciotola e all'interno andremo a mettere la farina lo zucchero un cucchiaino di lievito per docci mezzo cucchiaino di salto e andiamo a mescolare tutto una volta che abbiamo mescolato il tutto andiamo a formare una piccola fontana e all'interno andiamo a mettere un uovo e aggiungiamo anche il latte e lo aggiungiamo piano piano e andiamo anche un po' a mescolare e poi mescoliamo per bene in modo tale da ottenere un composto omogeneo aggiungiamo anche la scorza di mezza arancia e andiamo di nuovo a mescolare e poi andiamo ad aggiungere anche il succo dell'arancia e mescoliamo di nuovo in modo tale da ottenere un composto omogeneo una volta ottenuto il composto andiamo a prendere la nostra teglia da muffin io uso questi pirottini e andiamo quindi a riempire i pirottini per due terzi una volta riempiti tutti i pirottini e bisognerebbe lasciarli riposare per 30 minuti cosa che però io non ho fatto e poi li andiamo a infornare a 180 gradi per 25-30 minuti questi sono i nostri muffin appena usciti da forno e adesso li lasciamo rafforzati beh, questi sono i nostri muffin pronti spero che questa ricetta vi sia piaciuta fatemelo sapere con i like e nei commenti e ci vediamo al prossimo video